Un progetto ambizioso vuol dare nuova vita ad una linea di produzione di smessa, potenziarla per consentire il trattamento di tubi di maggiore lunghezza, rimettere in marcia nel pieno rispetto dei tempi contrattuali e nel rispetto dei budget prefissati. I lavori hanno riguardato lo smontaggio meccanico, la demolizione dei rivestimenti refattari, i trasporti dall'Italia alla Romania, l'attività di engineering, nuove forniture meccaniche ed impiantistiche, i montaggi meccanici, la fornitura e installazione del nuovo rivestimento reflattario del forno. Va tutto bene perché abbiamo affrontato e risolto smontaggio di meccanica, parti elettriche e adesso possiamo affrontare la demolizione. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Si è trattato di una sfida e di un progetto veramente entusiasmante in quanto ogni singola attività piedificata a tavolino è stata poi realizzata nel piedo rispetto degli standard qualitativi richiesti rispettando i timing previsti. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!